Emma Bonino chiama a raccolta contro la Bossi Fini, lanciata nel capologo toscano la campagna di raccolta firme per una proposta di legge popolare che superi le regole attuali in tema di immigrazione. L'orgoglio incontenibile del Toscana Pride, l'evento dell'orgoglio omosessuale dove sono in attesa migliaia di persone da tutta la regione si terrà il 27 maggio nella città del Petrarca. La banca di Cambiano a sostegno della cultura, instaurata una partnership con Obi-Hall, PRG e Antico Teatro Pagliano, presentata l'anteprima dei grandi concerti dell'autunno fiorentino. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Studio Tg. Apriamo il nostro telegiornale con la politica. Emma Bonino chiama infatti a raccolta contro la Bossi Fini, lanciata ieri nel capologo toscano la campagna di raccolta firme per una proposta di legge popolare che superi le regole attuali in tema di immigrazione. Sentiamo. A Firenze sono già state raccolte 200 firme ma l'obiettivo sono le 50.000 necessarie a presentare entro sei mesi una legge di iniziativa popolare per il superamento della Bossi Fini sull'immigrazione. A lanciare la campagna Ero Straniero nel capoluogo toscano è stata Emma Bonino in un incontro a cui erano presenti tra gli altri anche il presidente della regione toscana Enrico Rossi e l'assessore comunale al welfare del comune di Firenze Sara Funaro. Al momento, ha detto Emma Bonino, tante richieste d'asilo sono respinte con il risultato che in molti finiscono nel nero. Quello che rende la gente nervosa è la non organizzazione appunto di questi 500.000 più o meno clandestini che lavorano in nero e proprio perché non hanno documenti sono anche più ricattabili diciamo anche da narcotraffici. La soluzione contenuta nella proposta lanciata a Firenze sta nell'introduzione di nuovi canali di ingresso legati al lavoro che evitino a chi arriva di finire nell'illegalità. Noi proponiamo qualcosa di diverso legato al lavoro, un permesso di soggiorno finalizzato alla ricerca del lavoro per 12 mesi, intermediato quindi con la possibilità anche di poterlo ottenere attraverso i centri per l'impiego, attraverso le agenzie per il lavoro. La raccolta firme che a Firenze ha visto la disponibilità come autenticatori anche di una decina di consiglieri comunali di diversi schieramenti andrà avanti fino a ottobre con un calendario serrato di appuntamenti legati anche agli eventi estivi come concerti e spettacoli e coinvolgerà anche mercati, cinema e parrocchie. A margine dell'incontro Emma Bonino ha parlato anche riguardo all'attentato avvenuto a Manchester, sull'argomento si è espresso anche il guru della musica fiorentina Massimo Gramigni della PRG che ha dichiarato che la migliore risposta al terrorismo è la cultura. Ascoltiamoli insieme. L'effetto è un effetto drammatico, io condivido molto il suo coraggio, le sue parole, il sindaco ha detto dobbiamo continuare a vivere ed è esattamente quello che dobbiamo fare. Essendo inteso che per noi ogni attentato è un dramma, giustamente ci mancherebbe pure. Rimane il fatto che 18.000 vittime, 11.000 attentati, l'anno scorso sono avvenuti in Pakistan, Somalia, Nigeria. Certamente quelli più vicini a noi ci danno più sconforto, ci danno anche più paura, però io credo che non bisogna cedere al ricatto della paura e sono molto vicina al sindaco di Manchester. La nostra risposta è fare il lavoro di tutti i giorni, portare i toscani a vedere gli spettacoli, portarli con il sorriso sulle labbra, portarli in luoghi sicuri. Non solo perché esiste un sistema diverso tra il sistema anglosassone e il sistema italiano, il sistema italiano è fatto da alcune cose certe. I luoghi vengono controllati prima, viene controllato chi accede da un tecnico semplice in poi, a chi fornisce le patatine e la Coca-Cola, cioè tutto quel che serve per far vivere il luogo viene controllato prima. E poi viene, i questori hanno in mano un sistema di sicurezza che prevede una filiera che parte dalle forze dell'ordine indivisa a quelle non indivisa, fino a la Croce Rossa, i servizi di sicurezza come di privati, i barristi, i dipendenti delle nostre strutture, chi fa le pulizie nei bagni. È un sistema che si conosce, che ha una filiera cortissima e che guarda negli occhi le persone che entrano. Quello che è successo là è un dramma, perché portare i figli a vedere uno spettacolo, portarli in una barra è un dramma, ma l'unica risposta è noi siamo vivi, siamo presenti, non ci si fa impaurire. E adesso parliamo di alta velocità, il tunnel e la Foster si faranno. Tutto confermato come descritto nella riunione romana di aprile. L'assessore ai trasporti della regione toscana Ceccarelli ha infatti illustrato il progetto con una comunicazione in aula e in consiglio regionale. In sostanza, il tunnel di sotto attraversamento AV di Firenze si farà e il ruolo centrale di Santa Maria Novella è confermato. La comunicazione ha descritto un'idea progettuale condivisa, scaturita proprio dall'incontro avvenuto a Roma lo scorso 27 aprile tra Regione, Comune, Gruppo FS e RFI. Nell'area di Belfiore, spiega la comunicazione, oltre ai servizi garantiti dal passante ferroviario cittadino, saranno integrati i servizi della tramvia cittadina e la nuova autostazione degli autobus di Firenze. Nel dettaglio sono previsti 34 stalli a rotazione, a cui si aggiungeranno altri 130 posti per lunga sosta direttamente collegati con la Foster. Quindi la stazione servirà al trasporto regionale, extrurbano e turistico. Ora la Regione è in attesa che sia presentato lo studio di fattibilità e il successivo progetto definitivo da parte di RFI. Sulla tempistica della ripresa dei lavori, tutto dipende dall'approvazione del PUT, cioè il piano di utilizzo delle terre. E adesso voltiamo pagina, parliamo dell'orgoglio incontenibile del Toscana Pride 2017. L'evento, infatti, dove sono attese migliaia di persone da tutta la Regione, si terrà il 27 maggio da Rezzo. Vediamo. È già orgoglio incontenibile per il Toscana Pride, la manifestazione che aprirà da Rezzo l'ondata dell'orgoglio omosessuale che invaderà poi tutta Italia, con diversi Pride da Milano a Palermo. Il colorato corteo di sabato 27 maggio coinvolgerà tutta Rezzo, passando per le vie principali del centro cittadino, una grande festa per tenere accesi i riflettori sull'omocausto ceceno, per denunciare le terribili persecuzioni che stanno subendo le persone omosessuali che sono ancora perseguitate in 86 paesi nel mondo, dove l'omosessualità è un reato. Per chiedere quindi più diritti per tutti gli omosessuali ad Arezzo sono attese diverse migliaia di persone che arriveranno da tutta Italia. Orgoglio incontenibile è lo slogan del Pride di quest'anno e appunto incontenibile come il diritto alla felicità, il diritto all'amore, ai diritti appunto per le persone LGBT e all'autodeterminazione. Ed è un orgoglio contagioso appunto perché confidiamo che la società civile si mobiliti. È la seconda volta che la regione toscana dà il patrocinio a questa manifestazione, l'anno scorso per quella a Firenze e quest'anno per quella ad Arezzo. Sarà una parata dai colori arcobaleno contro i pregiudizi e per il riconoscimento dei diritti come il matrimonio ugualitario, l'accessibilità all'adozione e alla procreazione assistita a coppie singoli. Il nostro documento politico è ricco di spunti perché appunto ancora le cose sono cambiate ovviamente rispetto anche ad altri paesi. Arrivano notizie insomma dal resto del mondo, dalla Cecenia, di situazioni di repressione molto forte. Qui non avviene questo ma insomma l'uguaglianza è ancora lontana. La manifestazione Toscana Pride prenderà il via alle 15 di sabato 27 maggio dal passeggio del Prato e si snoderà nel centro storico di Arezzo fino ad arrivare in piazza Sant'Agostino. E adesso una notizia di cronaca, andiamo a Livorno, spinse giù la ex ragazza dal parapetto, è stato infatti arrestato a 17 anni dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravissime ai danni della ragazza. Il ragazzo è stato infatti trasferito in un istituto per minori secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri. Il giovane dopo una banale discussione avrebbe spinto giù la ragazza da un parapetto alto 4 metri. L'episodio ricordiamo risale alla sera del 29 aprile scorso nella zona degli Scali delle Pietre nel quartiere Venezia quando la ragazza fu soccorsa dal 118 per quella che in un primo momento sembrava una semplice caduta dal parapetto, tanto che non intervengono nemmeno le forze dell'ordine. Adesso voltiamo pagina dall'OPG alla Casa per i pazienti psichiatrici, inaugurato il nuovo centro di riabilitazione dei pazienti autori di reato nella villa Guicciardini a Montughi. Vediamo. Un nuovo centro di riabilitazione per pazienti psichiatrici autori di reato è quello inaugurato nella storica villa Guicciardini in via Montughi a Firenze. La struttura, che ospita al momento 10 posti letto, nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato. Villa Guicciardini è infatti una dimora storica che la famiglia ha trasformato nella fondazione Giulio e Eleonora Guicciardini Corsi Salviati, che fin dalla sua costituzione ha svolto iniziative e servizi di accoglienza per minori adulti con problematiche. Oggi tagliamo un nastro, ma questo non è un punto di arrivo, piuttosto di partenza, ha così dichiarato l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi, presente all'inaugurazione. Una soluzione che abbiamo pensato qui in regione toscana nell'ambito del complesso delle risposte per la chiusura dell'OPG, dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Abbiamo lavorato sia sulle REMS, sulle strutture a più alta intensità assistenziale, ma anche detentiva, ma abbiamo ritenuto che ci dovessero essere nella nostra regione anche strutture intermedie, come appunto questa di Villa Guicciardini. Presenti al taglio del nastro anche Francesco Aloisi dell'Arderel, presidente della fondazione Giulia del Nora Corsi Salviati, Emanuele Gori, direttore generale dell'ASLA Toscana Centro, Giuliano Casu, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ASLA Toscana Centro, Franco Scarpa, direttore dell'Unità Operativa di Reabilitazione per Pazienti Psichiatrici e Sara Funaro, assessore alle politiche sociali del Comune di Firenze. Villa Guicciardini diventerà una comunità di recupero perché tutte le persone, soprattutto quelle che hanno problematica di salute mentale, hanno diritto ad avere un percorso di reinserimento della società e provare perlomeno ad arrivare a quella che è la guarigione sociale che noi pensiamo sia uno dei punti fondamentali. E adesso parliamo di cultura e della Banca di Cambiano che è diventata il nuovo partner di OBIOL, PRG e Antico Teatro Pagliano. Vediamo. La Banca di Cambiano, a sostegno della cultura e dello spettacolo, la più antica banca di credito cooperativo operante in Italia, è diventata la nuova partner di OBIOL, PRG e Antico Teatro Pagliano. Ma in realtà è molto di più che una semplice partnership. Il nuovo legame sottolinea infatti la stretta connessione con il senso di comunità e di bene comune di un istituto da sempre fortemente radicato sul territorio. Come ha spiegato il presidente Paolo Regini, Banca di Cambiano coniuga in questo modo quattro elementi presenti nel proprio DNA, tradizione, innovazione, cultura e solidarietà. Cambiano da sempre ha rivolto la sua attenzione al mondo della cultura in tutte le sue iniziative molteplici sul territorio dove è nata e dove si è sviluppata. Ecco siamo arrivati a Firenze e quindi incontrare i più importanti operatori culturali nel settore dello spettacolo fiorentino è stato un punto quasi naturale. Per l'occasione è stata anche presentata presso il Teatro B-Hall l'anteprima dei grandi concerti dell'autunno 2017. Ligabue, Gianna Lannini, Biagio Antonacci, Fabri Fibra, James Blunt, questi alcuni dei grandi protagonisti dell'attesissimo autunno fiorentino. È una stagione intensa quella che riparte da settembre in poi. Devo dire che la Toscana compra i biglietti per gli spettacoli. Noi vogliamo continuare a dare tranquillità perché è quello che ci riesce a fare. Insomma chiedere scusa quando sbagliamo, portare tanto, dicevamo prima, tante persone che hanno degli handicap a vedere gli spettacoli. Fare il nostro mestiere l'abbiamo sempre fatto. E adesso andiamo a parlare di viabilità e tranvia. Giovedì primo giugno verrà infatti inaugurato il sottopasso Strozzi. Vediamo. È ufficiale. Il sottopasso Strozzi-Strozzi sarà inaugurato giovedì primo giugno alle 10.30. La data rappresenta una nuova importante tappa nel percorso che porterà Firenze a muoversi con tre linee tramviarie e conferma quanto aveva annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella in un sopralluogo effettuato nel mese di febbraio. Ed è proprio il sindaco a ufficializzare l'inaugurazione del sottopasso Strozzi-Strozzi nella sua newsletter quindicinale. Nel dettaglio l'opera rientra nei cantieri per la tranvia e consentirà ai veicoli privati provenienti dalla direttrice Rosselli Strozzi e da Viale Lavagnini di sotto attraversare i binari della futura linea 3 tra Ponte di Statuto e Piazza Bambini e Bambine di Beslan da dove raggiungeranno la stazione di Santa Maria Novella. I veicoli riemergeranno all'altezza dell'uscita del sottopasso Milton-Strozzi e la zona sovrastante, liberata dal traffico, sarà oggetto di un'importante sistemazione urbanistica. Diventerà una grande area verde che ospiterà anche la fermata della tranvia intitolata Oriana Fallaci e un parcheggio sul lato di Viale Milton. Il cardinale Bassetti è nuovo presidente della CEI. Papa Francesco ha infatti scelto Gualtiero Bassetti come successore di Angelo Bagnasco alla presidenza della conferenza episcopale italiana. I vescovi italiani si sono infatti riuniti ieri in Vaticano per nominare la terna dei candidati da sottoporre al Santo Padre, il quale ha scelto Bassetti come il successore di Cardinale Angelo Bagnasco, risultato il primo della lista con 134 voti. Bassetti è infatti l'attuale arcivescovo di Perugia, già pastore della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro nel decennio 1999-2009. E dunque è tutto per questa edizione di Studio Tg. Vi ricordo soltanto l'appuntamento di questa sera alle 20.35 con Telegram e in prima serata con Girotondo il salotto politico di Andrea Vignolini. Dunque è tutto, buon proseguimento con i nostri programmi e a tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie. Grazie a tutti.